Ciao amici, se avete problemi legali, mandatemi le vostre domande in formato video e io le pubblicherò su questo canale insieme alla mia video risposta. Il numero lo trovate in sovrimpressione, ma non dimenticate mai la parola magica. Questa è la legge. Avvocato, buongiorno. Le mando questo video messaggio chiedendo spiegazioni sul bollo auto. Io ho ricevuto a settembre 2021 una notifica dall'agenzia delle entrate per un bollo non pagato dal 2016 che però dalle carte il mio possesso risulta pagato. L'avviso di accertamento che qui viene identificato risale al 2018, però io nel 2018 non ho ricevuto nulla. Mi sto guardando tutti i suoi video sul bollo e non so cosa fare. Se mi può dare delucidazioni magari le sarei molto grato. Ecco, questa è la legge. Innanzitutto grazie per questa domanda che mi consente di spiegare a tutti come comportarsi dinanzi a un avviso per bollo auto già pagato. Spiego meglio il problema che ci viene prospettato dal nostro amico a beneficio di tutti. Il contribuente ha appena ritirato una raccomandata che contiene un sollecito di pagamento relativo all'imposta automobilistica del 2016, il bollo auto. Nel sollecito si fa riferimento all'invio di un precedente avviso di accertamento che tuttavia il contribuente dichiara di non aver mai ricevuto. Peraltro le somme che gli vengono oggi chieste e di cui lui prende atto per la prima volta solo ora sono state già a suo tempo versate. Il punto è però che non avendo mai preso conoscenza dell'originario avviso di accertamento il nostro amico non è stato in grado di fare opposizione e quindi di contestare il debito nei termini di legge, cioè 60 giorni dalla notifica. Ecco dunque allora cosa fare dinanzi a un avviso per bollo auto già pagato. La prima cosa da mettere bene in evidenza è che il bollo auto si prescrive nel termine di tre anni che decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata. Tanto per farvi un esempio, il bollo auto dovuto nel 2016 si prescrive il 31 dicembre 2019. Pertanto ogni avviso notificato a partire dal primo gennaio 2020 è illegittimo. Chiaramente la prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto formale contenente una richiesta di pagamento. Dunque nell'esempio che vi ho fatto prima l'ente titolare del credito che a seconda dei casi è la regione dell'agenzia delle entrate è legittimato a chiedere il pagamento del bollo auto 2016 se prima del 2019, data in cui si compie la prescrizione, ha inviato l'avviso di accertamento e successivamente, tra il 2020 e il 2021, ha poi notificato un ulteriore sollecito di pagamento interrompendo di nuovo la prescrizione. Questa sequela di solleciti può ripetersi all'infinito. Finché viene rispettato infatti il termine di tre anni tra una diffida e l'altra, la prescrizione non si compie mai. Potrebbe succedere che l'ente titolare del credito invii un avviso di accertamento a un indirizzo non corretto o che la raccomandata per una ragione o per un'altra, e succede spesso, non pervenga a destinazione come appunto nel nostro caso. In tali ipotesi il contribuente ha sempre la possibilità di impugnare il successivo sollecito deducendo appunto il mancato ricevimento della prima raccomandata. Già solo questo basterebbe per rendere illegittima ogni pretesa di pagamento da parte della regione o dall'Agenzia delle Entrate. Ciò perché, non essendo andata a buon fine la prima notifica, non è stata interrotta la prescrizione e dunque il debito si è ormai estinto. Peraltro tutta la procedura di riscossione è illegittima e decade automaticamente se non viene rispettata la sequela degli atti previsti dalla legge. Primo tra tutti l'avviso di accertamento con il quale si mette il contribuente al corrente dell'inadempimento tributario e contro cui questi può fare ricorso nei 60 giorni successivi. L'avviso di accertamento devono poi seguire gli eventuali solleciti di pagamento o la cartella esattoriale. Dunque il contribuente che non abbia ricevuto l'accertamento a monte può fare ricorso contro il successivo sollecito, deducendo appunto il difetto della precedente notifica, contestando peraltro nel nostro caso anche l'avvenuta prescrizione. Il ricorso andrà presentato alla Commissione Tributaria Provinciale a mezzo di un avvocato, un commercialista o un ragioniere entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata. Prima però di avviare l'impugnazione è bene accertarsi dell'effettivo difetto di notifica, cioè verificando le carte in mano all'amministrazione tributaria e verificando sempre se questa dispone della prova contraria. A questo fine è possibile presentare presso l'ente titolare del credito una richiesta di accesso agli atti amministrativi per verificare se vi siano cartoline di ricevimento di eventuali raccomandate firmate dal contribuente o magari da familiari conviventi. Nel caso che ci viene prospettato si aggiunge un altro motivo di ricorso contro il sollecito, l'avvenuto pagamento dell'imposta, di cui ovviamente si dovrà dare dimostrazione documentale nel corso del processo. Bene, abbiamo finito anche per oggi. Mandatemi i vostri video in cui dite anche voi questa è la legge, che li pubblicheremo qui di seguito. Ciao a tutti! Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.